E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che seguiamo la serie A dell'Udinese, 4000 like facili, andate di spolliciate, condividete questo video e questo canale con tutti i tifosi dell'Udinese che conoscete e guardate i video fatti perché questa settimana abbiamo abbondantemente parlato di Udinese, ne abbiamo parlato ieri affrontando il tema Cioffili, abbiamo soprattutto parlato nel video con Davide Marchiol di Tutto Udinese Web che recuperate prima di questo e di questi in cui abbiamo affrontato proprio il futuro di molti gioielli di casa Udinese, ve lo consiglio, andate in descrizione nel link di Farating a dare i voti ai giocatori di questa partita, partita che signori mi viene da riassumere in una parola, one word, qualità. Qualità signori, qualità, il ciofismo grezzo che ci dà buona uva e ci porta qualità, che squadra, che squadra, che qualità, che trame, che devastanza, che cattiveria, che esperienza, che precisione, che giocate. E ramarico, permettetemi, permettetemi anche un ve l'avevo detto, così di straforo ma di grande impatto, è quello che vi dico da inizio stagione. Peccato che questa squadra si sia svegliata solo adesso, peccato che questa squadra si sia svegliata praticamente solo dal post-Elas Verona, perché se l'Udinese si fosse espressa su questi ritmi, con questa intensità, con questa cattiveria, con questa qualità nelle giocate, con questo modo di stare in campo anche a livello tecnico, con questo pressing, con questa intensità, staremo sicuramente parlando di tutt'altro campionato. E non voglio assolutamente sminuire Cioffi nel dirvelo, però voglio spingere ad una riflessione. Se l'Udinese sta andando così con un Cioffi, ma cosa sarebbe potuto essere iniziare il campionato con uno Juric, con un Dionisi, con un De Zerbi, con un Fonseca? Cosa staremo parlando? Voi oggi guardate la formazione dell'Udinese e mescolando le suggestioni di mercato, di cui abbiamo parlato anche col Marchiol, che vedono numerosi protagonisti di questa squadra al centro delle cronache calciomercatistiche anche di grandi squadre, ed ieri la notizia, datami proprio da Davide, che l'Atletico Madrid ha messo gli occhi su Molina. Oggi Beto nemmeno c'era, ragazzi, oggi l'Udinese ha vinto 4-1 senza Beto, che assieme ad Olofeo è il miglior realizzatore di questa squadra, no? Ecco, se voi mescolate le voci calciomercatistiche che ci sono con i giocatori che al di là del calciomercato danno una presenza, un impatto, una devastanza veramente forte a questa squadra, Ma ragazzi, voi leggete il roster e sembra veramente una squadra da piazzamento europeo, ma lo è, ma lo è, ma lo è, ma purtroppo viene sempre sottovalutata, viene sempre derelita, viene sempre petata. Questa squadra qui, se iniziava la stagione con un allenatore veramente con idee e coraggio, ma chissà dov'era, chissà dov'era con un Juric, un De Zerbi, un Dionisi, un Fus, chissà di cosa stavamo parlando. Senza mancare di rispetto a Cioffi, che giustamente a fronte di questi risultati va assolutamente inserito nella rosa degli allenatori per l'anno prossimo, anzi, all'80% probabilmente rimarrà lui. Lì bisognerà vedere se si cadrà nell'errore magari fatto già con Gotti, cioè che dopo un ottimo finale di stagione confermi l'allenatore che te lo ha fatto fare, però nella stagione dopo vengono meno un po' di inerzia, vengono meno un po' di fomenti momentanei e si ricade nell'anonimato. Ecco, questo io credo che sicuramente andrà tenuto in considerazione nel fare le scelte poi a fine stagione, che non sia fatto tutto in modo semplice e facilitone. Però certo, uno vede l'Udinese giocare in queste partite qui e Cioffi merita quantomeno di essere messo tra i pretendenti, merita le sue chance, merita credito perché sta veramente... E poi, vi dico la verità, non credo che si sia inventato chissà cosa e l'ha detto lui stesso. Basta un po' più di grinta, un po' più di coraggio, un po' più di baricentro alto, un po' più di pressing, un po' più di intensità, cose che lui ha portato e poi i risultati vengono da soli perché la squadra, ragazzi, è di estrema qualità. La squadra è di estrema qualità, parliamo della difesa granitica, parliamo del centrocampo, ci sono un sacco di elementi interessanti, la qualità delle ali e dell'attacco. Oggi, per esempio, uno che ha fatto un partitone, uno tra i miei favoriti, Wallace, sta crescendo di partita in partita, ritratto del ciofismo grezzo, la solita prestazione impattante di Molina che causa il primo gol, partita intelligentissima di Udo G, una prece su Udo G, che magari non avrà devastato a livello offensivo, ma quanto è stato prezioso in fase difensiva, nell'andare a prendersi i falli, nel fare gli anticipi, le scalate, tantissima roba. Success purtroppo ha fatto quel fallo su rigore, ma anche lui tanto sacrificio. La qualità di Deulofeu e Pussetto. Deulofeu che ancora a volte cede in qualche personalismo, ma poi ripaga perché la qualità che a lui ce l'hanno in pochi, in Serie A va detto. Pussetto, un giocatore che mi piace tantissimo anche lui, che se trova un attimo di continuità, può veramente essere un giocatore ritrovato. E Samarzic, Samarzic che è uno dei talenti più interessanti di tutta la scuola calcio tedesca, ragazzi, stiamo parlando di un talento di scuola Lipsia che può veramente fare bene. Questo c'ha la qualità nei piedi, c'ha i pugni nelle mani, c'ha i pugni nelle mani. L'Empoli non ha neanche fatto una bruttissima partita, perché dopo il gol del 2-1 era capacissima di ritornare in partita. Un po' spenta al primo tempo, ma io ho visto anche e soprattutto un Udinese che ha saputo spegnerla, sia ad inizio partita, al principio, al primo tempo, sia anche dopo il gol del 2-1 che poteva riaprire la partita. Ho visto rabbiosità, ho visto una squadra che non ha lasciato spazio e che con l'esperienza, con la cattiveria e con la qualità, che sono tre cose fondamentali nel fare calcio, l'ha portata a casa. E io vi ripeto, ragazzi, adesso io sono curioso e credo che ci possa essere un obiettivo, quello del decimo posto, che sarebbe veramente tanta roba, sarebbe il decimo posto, sarebbe veramente tanta roba per l'Udinese il decimo posto, però voglio dire, già così, vedi una squadra che almeno, non al 100%, perché è ancora a margine di miglioramento, ma si avvicina a quello che può essere il rendimento di cui si è sempre parlato. Allora, andiamo con i voti. Silvestri, io gli do 6 più, perché comunque aveva parato il rigore e ne aveva quasi parato il secondo, quindi 6 più a Silvestri oggi. Altra chiamata fantacalcistica di livello che vi fece ad inizio stagione. Rodrigo Becao, voto, ma una colonna, una sicurezza, il Chiellini, il Chiellini del medio corso dell'Isonzo, 6 e mezzo. Pablo Marie, un solo piccolissimo errore, un piccolo anticipo mancato, ma per il resto tanta roba, tanta roba. L'Alessio Stigliano del medio corso dell'Isonzo, ma a me gasa moltissimo, gli do 6 più, una sicurezza. Neu Emperez, a lui anche, 6 più, margini di crescita evidenti. Molina, 6 più anche a lui, gol procurato, discese, pericolosità, anzi, 6 e mezzo, perché in due occasioni se Deulofeu gli passava la palla sicuramente avrebbe potuto segnare, quindi lui c'era anche per fare meglio. 6 e mezzo. Per Eira, 6 e mezzo anche a lui, qualità, esperienza, il perno della squadra. Wallace, grande crescita nell'ultimo periodo, grande crescita, fisicità, immane, recuperi, giocatore che sta diventando molto importante, 6 e mezzo. Mac and Go, 6 più, 6 più Mac and Go, 6 più alcantè del medio corso dell'Isonzo. Udo G, mi ha gasato, guardate, io vi invito a rivedere con calma, ok, la prestazione di Udo G, gustatevela con un bel sorbetto e guardatevi la prestazione difensiva di Udo G. 19 anni ha fatto una partita da 32enne, 6 e mezzo. Isaac Success, Love Sex, Isaac Success, sarebbe stato prima di quell'errore, 6 e mezzo pieno. Diamogli 6 più, perché comunque ha fatto un'ottima gara. Deulofeu, 6 e mezzo, se diventa un po' meno veneziano siamo al top. Yajalo voto 6, Nuitink voto 6, Pussetto 6 e mezzo di calbismo e di incoraggiamento, di calbismo e di incoraggiamento, Samarzic 6 e mezzo, Nestorovski 6. Voto a Cioffi, al Cioffismo Grezzo, esageriamo? No dai, stiamo cauti, 6 e mezzo. Un caro saluto.